Sì, siccome è bisogno, magari qualcuno che fa revisioni e rifiuti in macchina, se io sono un po' fuori dal discorso che ho usato, però qualcuno magari, sai? No, è un po' da manuale. Ah, scusate, questa è manuale? Sì, questa è manuale? Eh sì. Sì, questa è manuale. Sì, questa è manuale. È un po' della vicino o non? È un po' della vicino o non? È un po' della vicino? No, non è un po' della vicino o non? grazie